Al Val di Chiana Village con il direttore Riccardo Lucchetti, tutto pronto per la nuova stagione autunnale, direttore con tante novità e anche nuovi brand. Beh sì, chiaramente a settembre inizia un po' il nostro cambio di stagione, abbiamo chiuso il periodo dei saldi, devo dire, in maniera sicuramente ottima, perché comunque non ci dimentichiamo che siamo ancora in un periodo di Covid, un periodo difficile, quindi abbiamo affrontato tutta l'estate in maniera egregia, in maniera sicura e abbiamo avuto anche molte presenze straniere. Chiaramente si volta pagina con il mese di settembre e quindi anche un po' il volto dei nostri negozi è cambiato e diciamo così l'offerta merceologica preeminente è quella autunnale e poi diventerà quella invernale. Lo stiamo facendo chiaramente anche con delle novità, con delle nuove aperture, questo è un altro segnale positivo per la nostra struttura. Abbiamo già avuto molte aperture di nuovi negozi in passato, nelle precedenti settimane e l'autunno appunto sarà nuovamente un periodo di novità con negozi che ora non rappresenterò con le insegne ma quantomeno con le categorie merceologiche, perché stiamo lavorando chiaramente ancora sull'abbigliamento uomo-donna, anche su un abbigliamento formale perché se Dio vuole anche le cerimonie sono ripartite ed è una categoria merceologica molto ricercata che per molti mesi purtroppo è stata ferma, come del resto anche un po' il ritorno al lavoro, il ritorno degli eventi in presenza, il ritorno ad iniziative un po' più formali anche per motivi appunto professionali che comportano magari un rinnovamento dell'abbigliamento, un rinnovamento del guardaroba che anche in questo caso per molti mesi è stato fermo. E poi chiaramente anche un po' l'elemento chiave delle strutture commerciali come la nostra che sono gli accessori, in particolar modo gli accessori per la donna, che è un'altra merceologia che ci fa piacere poter avere in più con maggiore offerta, maggior scelta per i nostri clienti. Confermati nel frattempo tutti gli elementi che caratterizzano questa fase a livello di sicurezza? Sicuramente un elemento cardine della nostra struttura fin dalle riaperture, fin dalla fine del lockdown, quindi la nostra continua ad essere una struttura chiaramente all'aperto, quindi una struttura già più piacevole, più gradevole nell'affrontare rispetto a tante altre strutture al chiuso. Noi facciamo tutta una serie di verifiche e di controlli agli ingressi, come la misurazione della temperatura, il distanziamento delle code prima di entrare nei negozi, abbiamo dispenser di liquido igienizzante più o meno ovunque, abbiamo dei semafori per evitare gli affollamenti nelle toilette, insomma tutta una serie di misure che da ormai tanti mesi abbiamo messo in pista, stanno funzionando, la clientela si è adeguata e si comporta benissimo nei confronti di queste prescrizioni che ormai fanno parte un po' della nostra vita quotidiana, del nostro DNA e devo dire che rendono appunto la nostra struttura estremamente piacevole. Un altro elemento fondamentale, ad esempio, è che anche le nostre ristorazioni sono quasi tutte all'aperto, quindi è possibile mangiare nei nostri ristoranti, nei nostri bar, in piena sicurezza, all'aperto, senza nessun tipo di problema. Quindi sono tutti i valori aggiunti della nostra struttura che ci hanno contraddistinto fin dall'aria apertura e che, ripeto, stanno funzionando e ci hanno dato comunque grande soddisfazione.